Siamo in Basilicata, nella provincia di Potenza e a Savoia di Lucania, a 720 metri su livello del mare. Anticamente si chiamava Salvia di Lucania, ma poi dopo l'attentato di Giovanni Passannante, l'anarchico originario di Savoia, che nel 1878 attenta la vita del re Umberto I di Savoia durante la sua visita a Napoli. Dietro questo episodio si c'era la ragione del passaggio dal nome da Salvia in Savoia di Lucania. Ed ora ci apprezziamo ad andare a vedere le cascate del vallone del Tuorno e il bosco Luceto. Siamo a 520 metri sul livello del mare. È Savoia di Lucania. E questo sterrato conduce all'area Picnic di Bosco Luceto. Beh, per i più esigenti c'è anche lo specchio, eh! Si raggiunge quota 560 circa, per poi scendere e andare giù verso il vallone. Togliate i rigami però, eh! Se vi capita! Nel forno all'area e non si discute! C'è il vallone. Mamma mia moglie qua! Un rigonwello di raccanso Questo buondolone ha candidato a un miglior Qui si Newismo di Paramo! Pasqua sul Ciglatino E questa nuova ha quedato parte due lati ワrafica Come va? Ecco le condarine. San Cataldo ha il ballone del tuorlo. L'alto del tuor. E' un po' dii. E' un po' dii. E' un po' dii. E' un po' dii. Sì 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 acqua sul furia sia questa che l'altra che sta qui sotto e vai che sei arrivato guarda qua che spettacolo che colorazioni bellissime e qui c'è un piccolo salto a destra c'è un sentiero che sale ed ecco il piccolo salto assaggio un po' impegnativo però noi ci fermiamo qui perché poi c'è un funicolo un po' impegnativo un po' impegnativo e qui andate lì e commentare le facce del senso E' qui una bella tavolata. E' qui un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La scalata al vallone del tuorno. No. 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 ed ora facciamo il sentiero qui a sinistra che non abbiamo percorso quindi ok ed eccoci qui all'area picnic bosco luceto ballore del tuorno brindiam brindiam alle cascate del ballone del tuorno c'è qui la stemio e non contenta nunzia ci ha servito un bel panettone che gusto è tradizionale e paluani guarda che spettacolo con questa immagine di savoglia di lucania un arrivederci alla prossima escursione grazie 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 grazie